Il tema degli immigrati, dei migranti che sbarcano sulle nostre coste, ma non solo, oramai anche i media nazionali e internazionali ne danno notizia. Oggi si discute di un programma che è quello dell'accoglienza, un'accoglienza e l'integrazione. Sì, penso che l'accoglienza sia un punto fondamentale per un paese civile, ma poi vedrai il mio intervento, si parla di un'accoglienza all'incontrario, cioè noi dobbiamo agire soprattutto nei paesi interessati a queste immigrazioni e la nostra esperienza racconterò di due esperienze in Africa. Penso sia fondamentale preparare soprattutto i giovani a capire che veramente la ricchezza è il posto dove si vive, quindi anche per loro non è solo povertà, ma soprattutto questa loro povertà è data dallo sfruttamento di noi europei e quindi dobbiamo darci un po' una regolata. Quindi andare all'origine del problema e iniziare a discutere proprio dalle radici? Sì, bisogna cambiare proprio il tema, bisogna andare in Africa per capire, o in Estremo Oriente, in Medio Oriente per capire quali sono le problematiche. Certo noi non possiamo affrontare le problematiche della guerra, ma le cose più banali, tra virgolette, l'agricoltura, la pesca, potrebbero essere un volano per far sì che questa gente resta nel proprio posto e non venga a fare lo schiavo in Italia. di aprire gli occhi e ci consentono finalmente di vedere e di vedere chiaramente.